Come va ragazzi e benvenuti sul mio canale, sono ieri Gabriele e oggi siamo qua nel nuovo episodio di Spider-Man Riprendiamo, la scorsa volta c'ha licenziato, adesso quindi potrei aiutare l'oggetto del cuore di Harry Se chiamassi Harry, potrebbe parlare con il padre No, Norman non ascolta mai Ha persino tentato di revocare i fondi alle sue stazioni di ricerca Ah Ehi, una di quelle stazioni è vicina, potrei controllare come va mentre Harry è in Europa Quasi quasi, eh Allora Ci sarà un modo per aiutare Doc, deve esserci Sì sì ci sarà Ho solo una cosa, qui c'è uno zaino di merda Dio buono, Spider-Man Allora io devo andare là sopra, quindi adesso stai calmo Stai fermo Eccolo Lo sgherro Lancia ragnatele classico Andiamo a vedere se c'è Harry Potter qua Io posso andare No, non voglio sentire lo strozzo Puoi annullarlo bollamente sui fatti, ah posso anche annullarlo Mi ha lasciato un messaggio prima di partire Questa cosa mi ha scritto Che affanculo Uno dei progetti di mia madre riguardava delle stazioni di ricerca di pubblica utilità Avevo avviato tutto ma da ora che sono lontano C'è visto che la Oscorp decida di chiuderle Potresti controllarle per me Ho lasciato istruzioni su ciascuna Grazie amico Una parte di mia madre vive ancora in quel progetto Morta pure tua madre Ah ma che strage stai famiglia Lui sembrava tenerci morto Vedrò di fare il possibile Ah ok Ok Quindi io che sono qua cosa dovrei fare? Panoramica anche questa azione controlla la quantità dell'aria avvia Un paio di stazioni misurano l'inquinamento nell'aria L'obiettivo è rilevare le sostanze contaminanti Prima che raggiungano livelli tossici Avete visto che è a riaccia Eh La quantità di idrocarburi policiclici nell'aria è oltre i limiti E' un aumento In questo passo rischia di essere letale Ah si Le particelle formano degli agglomerati Ma che cazzo prima non c'era niente Posso attraversarle per prelevare dei campioni che mi aiutino a capire da dove arrivano Oh Sto attraversando Non basta attraversarle così Però prima non c'era niente Sono entrato in quella stazione PAP Sono spuntate queste nuvole di merda Secondo me è colpa di quella stazione lì Mi puzza la cosa Mi puzza È colpa di Harry Potter Cazzo Mi spieghi come faccio ad andare qua sotto Ah aspetta Eh sono difficili queste missioni Perché in pratica voi dovete andare dentro quelle nubi lì Il problema è che in alcune zone Da che ci sono andato zio bello Oddio ma devo perderci mezz'ora per sta roba Ci gioco qua qua Devo perderci mezz'ora Mezz'ora Ok io proverei a prendere la rincorsa da qua per esempio Dai ma si abbassa subito Oh grazie San Gennaro Sta morendo Per prendere dei campioni Sembra di respirare da un tubo di scappamento No questa non l'ho presa Non ho fatto finta Tossina proviene da due modelli di auto E da una cimera difettosa Servono foto Andiamo a farle foto 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 Mamma mia ma sono diventato un reporter Anzi teoria lo vedo già però Perfetto Ottimo uso della luce Ora tocca al dipartimento di protezione ambientale Dovrei preparare un costume verde per la giornata della terra Ma sarebbe male La stazione barri ha risolto una crisi sanitaria Per la Oscorp sarà complicato negarne l'utilità In effetti Ragazzi shock finanziario Lo vediamo nella prossima puntata Prossimo video Ci vediamo Ciao Che vediamo Ciao Grazie a tutti.